Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX e Futsimib, analisi settimanale su grafici a candele giornaliere. Qual è il compito di un valido analista che sappia il fatto suo e vada a prevedere con validi risultati il mercato? In valido analista devi continuare ad osservare più grafici differenti su time frame differenti e interpretarli con il metodo che utilizza, soprattutto se paga, se non paga sarebbe meglio la far perdere. In questo caso vorrei farvi notare alcune cose sul DAX innanzitutto. La prima cosa è che qui ho tolto rispetto al passato il più 12. Ovvero, sono tornato a rimanere sulla mia idea che 1, 2 t più 2 inversi compongono questo secondo t più 3 inverso. Per cui adesso ritorniamo e rimetterlo a posto e salviamo. Da qui quindi, che cosa può essere partito? Se vediamo che è il massimo assoluto dell'indice e se facciamo quello che abbiamo fatto nella realtà dei fatti per l'S&P 500 vediamo che qua, lo aggiorno in tempo reale, abbiamo fatto un 74 più 62 di discesa e questo massimo non è stato, come per quanto riguarda il DAX, superiore a questo. quindi in questo momento possiamo dire che con una discesa così forte rispetto a tutto il periodo precedente da qui si è partito qualche cosa di forte, di inverso. Ok? Per cui, anche in questo caso, ci mettiamo questa volta un verde non è un rosso come dall'altra parte ci mettiamo un bel mio t più 5 annuale inverso e ci aggiungiamo più 7 più 5 fa 12 diventa un po' elaborato poi andare a fare le somme in questo modo però è per segnalare una cosa importante ovvero se su questo massimo assoluto si fosse chiuso il primo t più 4 semestrale inverso di questo t più 5 annuale inverso peraltro rialzista ancora per adesso, rialzista, oddio facciamo neutro facciamo neutro, ok? da questo massimo se non verrà superato nelle prossime settimane partirà al secondo t più 4 inverso ovvero un ciclo semestrale inverso che dovrebbe quindi essere spinto a ribasso di indice per lo meno nella sua prima parte e per un t più 2 inverso ovvero un mensile inverso mensile che dura a minimo 24 giorni e il massimo se arriva a 43 24 su per ora 12 fatti il mio dubbio precedentemente era che quasi andasse a chiudere a 5 tempi ok? allungando al massimo questo periodo ma ormai è possibile farlo vediamo un po' arrivando fino a qua come detto siamo a 32 arrivando fino a venerdì siamo a 44 siamo oltre ed essendo oltre abbiamo un'ottima notizia per chi è short perché da qui per lo meno sta partendo minimo 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 un t più 2 inverso forse anche un t più 3 inverso guardando la centratura che non si discute assolutamente relativa al t più 5 da qui è possibile che stia partendo con una falsa poca forza appunto un t più 4 inverso un semestrale inverso che richiede discesa per il suo primo t più 2 inverso discesa di indice ok? quindi prima andare a finire sulla media mobile a 50 periodi poi andare a finire sul livello inferiore della cumo poi andare eventualmente a finire a 12.451 e poi ci sono tanti alti livelli il discorso come al solito per chi non utilizza o non ha più che altro a disposizione un algoritmo come ho invece io si prende un bel fibonacci e si dice ok il primo ritracciamento possibile è a 12.232 tra l'altro sotto la media mobile sotto il livello inferiore della cumo e quasi a livello della media mobile a 200 periodi e poi direi seguito questo sarebbe già un bel livello da raggiungere assolutamente soprattutto vista la forza che ci ha portato fuori da un bear market che è nato quando abbiamo perso più del 20% della capitalizzazione totale del DAX stesso non dell'anno ma di tutto il DAX di tutto il valore del DAX stesso perché io non sono ancora sicuro che tante persone sappiano bene che cosa significa bear market bear market è una roba mediamente devastante e noi ci siamo usciti grazie alla forza dello Standard & Poor's 500 certamente qui ci giustificavano con la pandemia con il lockdown con tutto quello che volete la discesa poi però ci siamo ritornati cioè abbiamo annullato tutto ciò che è successo nell'economia reale nell'ultimo periodo fallimenti di una miliardata di aziende di piccole e medie imprese licenziamenti di massa tutto cancellato ecco quanto vale il rapporto tra l'economia reale produttiva e l'economia finanziaria fatta dagli HFT dai debiti a interessi bassissimi e a leva non c'è più molto da seguire c'è una dicotomia totale per quello vi dico sempre le notizie possono avere effetti sugli indici non sul corso valutare che sono un'altra cosa per cui le decisioni della politica monetaria ovviamente influiscono ma ecco perché vi dico le notizie soppesatele i movimenti di borsa che arrivano dopo le notizie non vi dicono prima della notizia che cosa fare non c'è nessuno non c'è nessun giornalista che vi dice ah guardate la Fed dovrebbe mantenere fammi i tassi dovrebbe dare degli aiuti ma non tantissimo quindi mettetevi short no si arriva a fine della giornata e si dice ah la discesa c'è stata la salita c'è stata perché ma se lo sai se te l'aspettavi ma perché non me l'hai detto perché non abbiamo fatto trading insieme perché le notizie sugli indici hanno vita soltanto nel breve nella giornata stessa e eventualmente esasperano movimenti già lì sui grafici già lì che ci può dire l'analisi ciclica evoluta che tiene conto anche dei volumi di gan e di tantissime altre cose e che supera in questo caso la classica ciclica che non tiene conto di determinate cose ormai fondamentali per un mondo del trading che è cambiato tornando a noi abbiamo visto l'inverso da qui può partire ben più di un t più due inverso vi ho dato i target ok vediamo di indice di indice abbiamo questo t più due che bisogna capire se è ancora in essere perché sarebbe 36 giorni ma qui può esserci stata una chiusura con questa roba qua che hanno fatto lo sapete il nostro raccordo che era da un po' che non vedevamo lato di indice ok statisticamente da parecchio tempo ok ne abbiamo avuto uno qua per confondere tanto le acque prima della della ripartenza ma stiamo parlando del mese di aprile figuratevi tanto tempo fa per cui quando vogliono mischiare le carte iniziano a mettere dentro i nostri fantastici raccordi finta rialzo poi ribasso e poi ripartenza dove si sperava che si andasse prima della finta ok ed indice abbiamo fatto partire perlomeno un t da qua che potrebbe non essere collegato a questo lo ridico che potrebbe non essere collegato a questo perché il t più 3 trimestrale è arrivato a 70 barre su massimo 86 siamo molto vicini alla fine ok però non è detto che si esaurisca con il secondo t più 2 potrebbe aggiungere un ulteriore t più 2 corto perché per arrivare a 24 barre ne mancherebbero 14 e 14 più 70 fa guarda caso 84 massimo 86 quindi bel punto di domanda sappiamo sappiamo però che se si andrà a perdere sempre più forza e soprattutto andando in violazione di questo swing a 12753 per il resto della durata di t più 1 o t più 2 partito eventualmente da qua avremo costantemente discesa e aggiornamento del minuto da qui abbiamo lato inverso abbiamo un inverso che vuole partire forte che può essere appunto il t più 4 inverso semestrale inverso che vuole spingere all'ingiù di 11 da questa parte abbiamo t più 1 probabilmente che non ha avuto la forza di superare questo massimo e che sta perdendo piano piano forza arrivato a 8 più 2 oppure a 10 barre tutte e due le cose ci dicono che se anche da qui stesse partendo il nuovo t potrebbe provare a galleggiare o a superare anche i massimi fatti venerdì ma che poi ci si aspetta discesa ok questo per quanto riguarda il DAX per quanto riguarda il FUZI NIB forza molto 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 più bassa davvero inferiore rispetto a S&P e tutti gli altri guardate se lo ridimensiono per farvi vedere massimi qua guardate che roba sembra in lateralità praticamente ormai il FUZI NIB non è esattamente così però essendo partito da qui già segnalato prima un T5 inverso da questo massimo qua che è arrivato ormai a 149 barre facciamo che metto e dire così ok qui la situazione è un po' diversa perché nella realtà di fatti abbiamo avuto probabilmente un primo TP4 inverso semestrale inverso che ha chiuso qua 105 barre sereno sereno e da qui è già partito con largo anticipo appunto il 20 luglio il secondo TP4 inverso che non ha mai 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 riportiamolo in una scala decente perché sono davvero difficili non ha mai superato questo massimo questo swing assoluto e ha progressivamente perso forza qui la partenza del secondo TP4 inverso è molto evidente anche perché è arrivato già 44 barre ragionano qui con voi e quindi abbiamo già un TP2 mensile inverso rialzista di inverso ribassista di indice che può essersi chiuso appunto anche qua nella realtà di fatti o qui o qui dopo 33 barre nella realtà di fatti pensarei che anche qua può essere successo la seconda cosa si è fatto 1 2 3 4 e il quinto t meno 3 vediamo se abbiamo fortissima spinta da qua il secondo TP2 inverso mensile sarà partito da qua in questo momento faccio così preferisco mettere quinto t meno 3 quinto t inverso quinto settimanale inverso poi vediamo e qui abbiamo già un 3 giorni di discesa e quindi con 3 giorni in realtà avremo soltanto un t più 1 ok comunque qui la situazione è molto più drastica e tragica perché l'inverso come avete visto siamo qua con questo piccolo dubbio ma comunque spinta per la partenza già in essere da tempo appunto da da luglio di un TP4 inverso mentre invece per quanto riguarda l'indice a che punto siamo arrivati per quanto riguarda l'indice iniziamo a togliere un po' di roba perché se no qua poi non si capisce più nulla e bisogna tenere i grafici più puliti possibili sono già tanto sporchi rispetto al solito i miei grafici allora per quanto riguarda il nostro indice siamo arrivati complessivamente a 131 bar 131 bar ovvero il nostro primo TP4 ha fatto un primo TP3 trimestrale da 61 bar e il secondo partito da lì però è arrivato a 70 ok quindi si sta allungando rispetto al precedente che è stato molto corto nella realtà di fatto veramente tanto tanto corto anche qui siamo a 35 quanto può durare al massimo un TP3? un TP3 può durare al massimo 86 giorni abbiamo tempo per andare giù? caspita è come se ne abbiamo per andare giù però esploriamo di nuovo come è stato fatto questo trimestrale come è composto questo trimestrale perché il fondamentale è quello allora primo TP2 mensile 35 barre secondo TP2 mensile che per ora è arrivato a 35 barre e abbiamo avuto un 27 più in questo momento 8 anche qui nulla vieta a un TP4 che deve andare in chiusura e che è arrivato a 131 giorni come detto oltre andando oltre al secondo TP2 di aggiungere un altro TP2 se ci da sta come tempo ovviamente il bassista perché questo è già neutro molto neutro come ciclo oppure allora o andare avanti con il TP2 continuando ad affondare basta oppure fare chiusura del TP2 e poi un'aggiunta di un TP1 o anche di un TP2 se ci sta in questo caso nel nostro mensile il nostro secondo TP2 essendo arrivato a 35 barre ce ne stanno massimo 8 potrebbe fare un 8 più 8 8 più 6 8 più 7 ok quindi tentativo di risalire domani un po' come su DAX o su S&P500 e poi continuazione di discesa tutto quello che vuole oppure staccarsi e trasformarsi in un raccordo tra la chiusura effettiva su questo minimo del primo TP4 e tra TP4 e TP4 ci può essere un TP1 raccordo di 3 gradi inferiori rispetto al ciclo che anticipa e precede che casualmente per un TP4 è proprio un TP1 questo è il bello dell'amato di Oscar che se le cose andranno come illustrato ovvero con l'aggiornamento dei minimi e magari per un TP1 avremmo fatto bingo anzi preferisco dire rock and roll tenete conto che qui siamo andati già a ritracciare per un 23 6% di Fibonacci e che sotto c'è questa roba qua anche perché abbiamo già bucato tutto livello superiore in foglia dell'acumo c'è soltanto che cosa qualche cos'altro sì c'è la media mobile a a 50 periodi qui nascosta ok sul quale ci siamo appoggiati per cercare di non scivolare giù però questa candela mi è stata proprio bellissima direi che l'analisi è stata completa se vi è piaciuta molto mettete un like altrimenti non mettete nulla perché non l'hai dovuto assolutamente se queste analisi vi piacciono vi permettono di guadagnare innanzitutto perché è la prima cosa importante e di capire meglio come si muovono i mercati sottoscrivete il canale mettete un bel like all'analisi stessa cliccate sulla campanella per vedere quando uscirà la nuova analisi e eventualmente venite a trovare nella mia community di Facebook che conta più di 1200 trader che ascoltano cose molto tecniche come questa analisi vi ringrazio per la pazienza per l'ascolto per l'attenzione che mi date e vi auguro una splendida domenica per l'attenzione per l'attenzione